Maria Lucia Revisoree Io mi chiamo Antonio, sono un amante degli insetti e da qui nasce la passione per quello che vorrei diventasse il mio mestiere, l'apicoltura. Prima di parlarvi di apicoltura o di apicoltura urbana nel senso stretto, vorrei presentarvi le api, darvi la possibilità di riconoscerle e distinguerle. Le api appartengono al regno degli menotteri. All'interno di questo regno possiamo distinguere due sottoclassi, la classe dei predatori e la classe delle prede. Tra i predatori troviamo le vespe, le vespe è facile riconoscerle, sono glabre, hanno un'armatura, sono carnivore, vanno a mangiare sempre il pesce o la carne che noi mangiamo sulle tavole e il più pericoloso tra le vespe è il calabrone, ma ognuno di questi insetti si difende, non attacca mai l'uomo per sfizio. Tra le prede troviamo le api, tra le api ci sono i bombi, ci sono le api solitarie, facile riconoscerle perché sono sempre più pelose, un po' più tozze. La più interessante delle api è l'apis mellifera, è l'unica che l'uomo alleva per produrre miele. Le api vivono in un alveare, all'interno di un alveare c'è una regina, centinaia di fuchi, che è la casta maschile, e migliaia di api operaie. Nel pieno della stagione, verso luglio-agosto, un alveare può raggiungere fino a 80.000 individui. Questo ci fa pensare come calabroni e vespe predano le api. Quindi le api sono delle prede. L'importanza delle api non risiede nella produzione di miele, potremmo anche farne a meno del miele, ma delle api no, perché le api sono importanti per l'impollinazione. C'è un'intera famiglia di piante, le angiosperme, che ha affidato la propria riproduzione alle api. E quindi, grazie a queste api, le angiosperme e i fiori si sono riprodotti in tante varietà. Voi pensate che di tutte queste piante da fiori, di solito le angiosperme sono quelle che hanno i fiori colorati, di tutti questi fiori, le api sono responsabili per l'80% della loro riproduzione. Anche l'uomo si nutre di queste piante. E quindi noi ci nutriamo di frutta, come mele, pere, arance. Indossiamo jeans di cotone, che è impollinato dalle api. Mangiamo la carne che va al pascolo, e il pascolo è riprodotto dalle api. Per un buon 50% di quello che noi mangiamo, dobbiamo dire grazie alle api. Quindi le api possiamo dire che sono le garanti della biodiversità, e sono quelle che ci aiutano a sopravvivere. Infatti da un po' di anni a questa parte rimbalza sempre una frase di Einstein. Non si sa se sia vera, se l'abbia detto lui o meno. Questa frase dice senza le api all'uomo restano quattro anni di vita. Prescindere se l'abbia detto o meno Einstein è una frase vera, perché senza le api non ci sono i fiori, non ci sono i frutti, e quindi non ci sono gli erbivori, non ci sono i carnivori, e di conseguenza non c'è l'uomo. Il problema è che forse abbiamo recepito un po' troppo tardi questo messaggio. Infatti le api stanno morendo, le api da almeno dieci anni muoiono per cause tuttora sconosciute. In realtà non sappiamo perfettamente qual è la causa scatenante della moria. E c'è una comunità scientifica che sta cercando di indagare, ma non perché salviamo le api per salvare il miele, no, salviamo le api per salvare l'uomo. E quindi c'è un'intera comunità scientifica che sta indagando nei luoghi dove le api vengono applicate, ovvero la campagna. Quella che noi abbiamo sempre pensato essere l'amica degli apicoltori, l'amica dell'uomo, oggi sta diventando una grande nemica. E infatti noi vediamo che in campagna c'è la monocultura, ormai esiste l'industria alimentare, non esiste più la bella campagna e il posto bucolico, no, perché gli uomini aumentano sempre di più e quindi l'agricoltura si industrializza. La monocultura non offre più cibo alle api, gli apicoltori devono nutrire artificialmente le api. Quest'agricoltura sopravvive grazie ai pesticidi, che è la prima causa scatenante della moria delle api. E poi non basta solo questo, ci sono i cambiamenti climatici, ci sono l'inquinamento delle falde acquifere, tanti problemi che portano alla moria delle api. Ma è la stessa apicoltura intensiva che le sta distruggendo, perché a forza di stressarle per produrre miele, produciamo, produciamo, le api reagiscono in malo modo. La fortuna è che ci sono tanti scienziati che studiano questi problemi, ma il problema più grande è che a volte queste ricerche vengono finanziate dagli stessi fautori dell'impoverimento del terreno. Quindi non esiste una verità oggettiva. Ad ora non sappiamo perché le api muoiono. Fatto sta che le api muoiono. Come stanno reagendo le api? Ebbene, le api migrano, perché le api non sono come tutti gli animali di allevamento, sono animali selvatici. Gli apicoltori danno solo uno spazio. Migrano, e sapete dove vanno? In città. Paradossalmente le api migrano verso la città. Quelle che noi abbiamo sempre pensato essere inquinanti, scappiamocene nella città. No, invece le api le hanno scelte. Quindi è importante capire per quale motivo. I motivi anche qui sono tanti. Prima di tutto perché la città ha biodiversità. La città non deve produrre cibo dalle piante. Quindi le piante ornamentali arricchiscono la dieta delle api. Il clima mite, l'attenzione delle persone. E quindi, sempre di più, nascono progetti di apicoltura urbana. L'apicoltura urbana è diffusa a New York, a Londra, dove ci sono 10.000 alveari, a Hong Kong, a Melbourne, in tutte le più grandi metropoli del mondo. E in Italia non esisteva nulla. Noi siamo stati i primi un po' a portare avanti questa pratica. E così abbiamo iniziato anche noi, con una squadra di amici e volontari, a raccogliere gli sciami che arrivavano in città. Questi sciami arrivano, si posano sui segnali stradali, sulle bici, sui cornicioni. Noi andiamo, li prendiamo, e invece di riportarli in campagna, per evitare che poi ritornino in città, gli diamo una giusta sistemazione. Stiamo prendendo accordi con vari enti, vari stabili, per poter posizionare le api direttamente in città. E quindi abbiamo realizzato un apiario all'interno di una casa di quartiere, nel quartiere Mirafiori. Noi siamo di Torino, e in questo quartiere c'è la Fiat. Sul tetto di questa casa di quartiere ci sono tre alveari. Le api stanno benissimo, tutti contenti. E non è l'unico apiario che abbiamo realizzato. Ne abbiamo creato anche uno in un museo. Abbiamo chiesto a Emmanuel Le Grand, che è l'autore di questa opera, che si chiama La Folie, e rappresenta un giardino ottocentesco, se potevamo mettere le api lì dentro. E lui è stato contentissimo, perché è un museo di arte contemporanea ed è molto focalizzato sui temi ambientali. E quindi ha detto mettere le api in quest'opera può essere un completamento. E noi l'abbiamo fatto. Ci siamo spinti oltre. Abbiamo installato anche un apiario urbano su un balcone, esattamente sul balcone di casa mia. Io abito a Torino, in pieno centro, in un condominio, signorile, quarto piano, e ci sono tre alveari. I vicini si sono lamentati all'inizio, poi hanno scoperto che le api vanno sui fiori e che non interessa l'uomo alle api. Quindi le api, pensate, escono dal nido e vanno in linea retta sul fiore. Quindi non causa nessun problema ai vicini, anzi ci procura un po' di cibo, un po' di miele. E quindi è perfetto. Abbiamo realizzato circa sei apiari a Torino. Ne sono stati realizzati altri e ne realizzeremo ancora altri, da pubblici e privati cittadini. Diciamo che la città di Torino ha reagito positivamente alla nostra proposta. Alla proposta è la possibilità di allevare le api come hobby, come passione. Ogni cittadino può allevarle per dare un rifugio alternativo alle api, per procurarci del miele, autoprodurci del miele e per impollinare le piante della città. Perché senza le api le piante non si impolliano. E così noi abbiamo visto le api non solo come produttrici di miele, perché attenzione alle api la vera importanza non è nella produzione di miele. E quindi siccome in città si riparte da zero, abbiamo pensato perché non utilizzare le api come bioindicatori. E allora nasce il progetto Urbisa, nasce il valore aggiunto rispetto a tutti gli altri progetti di apicoltura urbana nel mondo. Se guardiamo un alveare, un alveare ha in media circa 50.000 api. Di queste 50.000, 10.000 sono le raccoglitrici. Ognuna di queste raccoglitrici si sposta di circa un chilometro e mezzo o due dell'alveare, occupando un'area di 7 chilometri quadri. Ognuna di queste api visita circa mille fiori al giorno. Quindi voi pensate, se noi guardiamo un alveare come una centralina ambientale che ci dà un'indicazione sull'ambiente, questa centralina effettua a 10 milioni di microprelievi in ambiente, non c'è nessuna tecnologia capace di fare una cosa del genere e di stoccare tutte queste informazioni nell'alveare. Da queste informazioni stiamo sviluppando due filoni di ricerca. Il primo filone riguarda la biodiversità. Grazie all'analisi sul miele e sul polline noi possiamo scoprire quali sono le piante della città, creare un attrante botanico e capire un po' come fare a mettere delle piante favorevoli alla vita di questi menotteri. Perché è inutile piantare delle piante che siano belle solo estetiche. No, le piante in città, la vegetazione urbana deve essere funzionale alla natura, altrimenti è un prato inglese che non serve quasi a nulla. se non alla bellezza. Il secondo filone di ricerca è l'inquinamento. Quindi le api ci possono dare informazioni anche sull'inquinamento. Analizzando i componenti dell'alveare, le api stesse che volano, il miele, la cera, il polline, la propoli, possiamo scoprire in che quantità e di che qualità è l'ambiente e gli inquinanti. Quindi possiamo scoprire quali metalli pesanti ci sono, come piombo, nickel, cromo, radionuclidi, pesticidi, idrocarburi. Quindi le api integrano gli studi che vengono effettuati oggi per studiare la qualità ambientale. E lo fanno le api, lo può fare anche qualsiasi cittadino, quindi non deleghiamo più il biomonitoraggio e l'attenzione dell'ambiente ad altri, possiamo farlo noi stessi. E così stiamo dimostrando, attraverso il nostro piccolo, che si possono avere le api in città, non bisogna essere per forza apicoltori professionisti per averli, e contribuire al benessere sociale della città. Così dal 2012, 2013 e 2014 abbiamo iniziato a raccogliere dei campioni. Urbis non ha dei finanziamenti, si autofinanzia. Quindi abbiamo iniziato a raccogliere dei campioni di mieli e analizzati per scoprire se saranno commestibili. Quindi iniziamo a capire se il miele può essere distribuito o meno. Per nostra grande fortuna e sorpresa abbiamo scoperto che i mieli urbani non sono inquinati. Sebbene Torino sia una città molto inquinata, le api sono capaci di filtrare l'inquinamento e di dare al prodotto miele una grande qualità. E quindi abbiamo raccolto mieli nel 2012, 2013 e 2014. Abbiamo iniziato a distribuirli e abbiamo creato una nostra linea di prodotto. Prima di pensare al miele come nutrimento, noi vediamo il miele come un veicolo di informazione. E quindi all'interno dell'etichetta abbiamo installato un QR code tramite il quale il consumatore può collegarsi ad un sito internet e scoprire la qualità dell'ambiente e le caratteristiche del miele. Quindi il miele diventa un libro, un qualcosa da leggere. Tutti possono informarsi sulla qualità ambientale, non bisogna per forza essere produttore di miele o consumatore di miele. C'è un sito, si va nel sito e si scopre qual è la qualità della vita all'interno del quartiere in cui si vive. Solo alla fine di questo processo il miele finalmente si può mangiare. Noi ci siamo divertiti a dare nomi strani ai mieli, visto che in città si fanno solo millefiori e noi vogliamo fare solo millefiori. Abbiamo dato il nome ai mieli a seconda del luogo di raccolta. Quindi esiste il miele Antonio, che è il miele fatto sul mio balcone. Esiste il miele Elvira, fatto nell'orto urbano di Elvira. Esiste il miele Pav, e il Pav è il museo. Il miele Bunker, che è un'altra realtà in cui abbiamo le api. E il miele Andrea, perché Andrea è un altro apicoltore che ci sta sostenendo. Abbiamo messo delle api a casa sua e abbiamo creato il miele Andrea. Quindi ognuno può personalizzare i mieli. Possiamo inventarci l'apicoltura urbana, ecco, dandogli però un'etica sociale, non solo per produrre il proprio miele, ma per dare un contributo alla città. E quindi cos'è in estrema sintesi il progetto Urbis? Noi raccogliamo gli sciami della città, li mettiamo nelle arnie, gli diamo una giusta sistemazione, diamo la possibilità alle api di andare a raccogliere tutte queste informazioni per raccogliere nettere, polline, propoli, eccetera. Le analizziamo, queste matrici, queste risorse, e invasettiamo tutto in un barattolo che contiene sia un'informazione che un nutrimento. Ci autofinanziamo la ricerca grazie alla distribuzione del miele. I cittadini che mangiano il miele urbano mangiano un pezzo di città, assaggiano la città, perché così è la sintesi di un luogo il miele, non è come il vino o l'olio che viene fuori da una frutta, no, vanno a prendere tanti pezzetti e creano il miele. E da qui possono nascere tante iniziative. Noi vogliamo dimostrare che tutti possono fare apicoltura, tutti possono salvaguardare le api e possono dare un senso diverso alla città. Quindi se vogliamo costruire città sostenibili, possiamo partire anche dalle api. Quindi anziché fare città a misura d'uomo, noi vorremmo costruire città a misura d'ape, dove l'ape è il testimone della sostenibilità ecologica della città. Grazie. Grazie.